Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source Puntata questa qui che possiamo definire consigli per registro In questa puntata parleremo di Linux Mint Linux Mint nell'ultima incarnazione della 17.1, nome in codice Rebecca Sia nella versione Cinnamon che nella versione Mate Perché mi sento di consigliare questa distribuzione? Come ben saprete il team di Linux Mint ha deciso di effettuare un cambio di rotta per quanto riguarda il rilascio della sua distro I rilasci saranno tutti quanti basati sulle LTS E questo che cosa significa? Che abbiamo avuto Linux Mint 17 rilasciato lo scorso aprile basata su .14.04 LTS Linux Mint 17.1 Come lascia presaggire il nome, quindi 17.1 non c'è un salto al numero di serie nuovo E non è altro che una Linux Mint 17 con l'aggiornamento dei vari desktop environment e qualche altro pacchetto Nulla di nuovo Sono praticamente delle ISO semestrali aggiornate Che sono utili per chi deve reinstallare o chi deve installare per la prima volta Linux Mint Che si ritrova quindi con una ISO con già i pacchetti aggiornati Quindi quando va a scaricare l'ira di Dio ogni qualvolta avrà necessità di scaricare una nuova ISO Aggiornamenti, come vi ho detto, sono alcuni aggiornamenti principalmente che riguardano il desktop environment Aggiornamenti che comunque poi arriveranno per tutti quanti gli utenti Perché arriveranno come aggiornamenti di sistema Quindi Cinnamon 2.4 lo avrete anche su A17 e via dicendo Dicevamo di questa listo Perché mi sento di consigliarla? Perché ultimamente ho avuto modo di provarla sia nella versione Cinnamon che nella versione Mate E devo dire che Essendo basata adesso tutto su LTS Il lavoro di ottimizzazione è stato fatto a regola d'arte Chi installa Linux Mint ha un ambiente stabile Ha un ambiente veloce Ha un ambiente pulito Graficamente carino perché adesso sono stati introdotti dei nuovi temi Sia per quanto riguarda i temi di Cinnamon Che per quanto riguarda i temi GTK Che quindi riguardano sia la Cinnamon Edition Che la Mate Edition Temi ben studiati Fra l'altro nel caso di Linux Mint Mate I temi di Linux Mint sono gli unici guardabili su quest'ambiente Dexter Perché se vedete i temi base di Mate Vi mettete le mani nei capelli Per quanto sono orrendi Senza offese per quanto riguarda chi li ha sviluppati Però dovreste curare un attimino il grado estetico Fatevelo dire Distribuzioni come ho detto Che sono consigliatissime per chi si avvicina per la prima volta All'ambiente Linux E sono anche consigliati Per chi è un utente navigato Che però vuole installarsi qualcosa Che non dia rotture Che vada sempre bene Senza avere tanti interventi manuali da fare Perché appunto una volta installata con i tui Linux Mint Quello per gli aggiornamenti Seguite quelli gli aggiornamenti consigliati E basta Non dovete fare altro Cinnamon è un ambiente di desktop environment classico Avete tutte le cose nel posto loro Quello che manca personalmente Secondo me è una grande critica E va fatta Sono ancora alcune cose Tipo l'integrazione del calendario Calendario è l'applicazione calendario Praticamente se cliccate sul calendario Vedete soltanto la vista calendario e basta Non c'è la possibilità di integrare Che ne so il calendario di Google Calendar Così come avviene per Unity o Gnome Shell Quindi per esempio questa è una cosa andrebbe implementata Per il resto poi non c'è niente da dire Cinnamon sta venendo su bene È uno dei pochi casi di Fork Che sta camminando con le sue gambe Che riesce a funzionare E oltretutto Cosa positiva di Cinnamon Che con le ultime versioni Si è distaccata da Gnome Shell E quindi è facilmente portabile Su qualsiasi altra distribuzione Su Mangiarlo si è possibile installarla Che è praticamente base Arc È possibile installarla su tante altre distribuzioni E appunto non dà problemi Nemmeno su questi desktop environment Poi io personalmente ho sempre visto Che è leggero e meno avvita di risorse Rispetto a Gnome Shell ad esempio Sia a livello di quantitativo di RAM consumato Sia a livello di carico sulla CPU Cosa molto importante Per esempio Gnome Shell Ha molto avvita di CPU La Mate Edition Sì, è anche questa una buona distribuzione Diciamo così Mate è per chi vuole Gnome 2 Cioè per chi non si riesce A distaccare da Gnome 2 È Mate Edition È quello che fa al caso suo Interessante notare Che nella 17.1 di Linux Mint È stato introdotto Compiz Che è possibile attivarlo Con un semplice switch E una volta attivato Ha già le impostazioni in base Quelle consigliate Diciamo così Per migliorare l'aspetto del desktop In questo caso Una volta attivato Compiz Noterete comunque Un accaddo delle prestazioni In giro Perché comunque Appunto C'è una differenza Tra il Windows Manager Predefinito e Compiz Però comunque È tutto sommato accettabile Quindi se avete un computer Diciamo così Abbastanza Intermedio Non troppo vecchio Non noterete Non noterete difficoltà Tutti quanti poi gli amanti Di Ubuntu Della prima ora Saranno felici Di questa scelta Possibilità Offerta anche Da altre distribuzioni Celle d'idea Perché per esempio C'è Fedora Matecon Compiz Su Linux Mint La cosa sembra Meglio implementata Sembra meglio implementata Anche per dire Come ho detto prima Dei team di Linux Mint Che rendono l'ambiente Dextrot Più Più professionale E piacevole Da guardare Senza Conati di vomito Beh A parte questo Nulla altro da dire Perché ho detto Quasi tutto Su queste due distribuzioni Se Tralasciate un attimo I pregiudizi Mi rivolgo a chi Non prova Linux Mint Da parecchio E chi pensa Che sia La solita Miestra riscaldata Mettete da parte Un pochettino I vostri pregiudizi E provate Date uno sguardo A Linux Mint Date uno sguardo Alla Cinnamon Edition L'edizione principale Fateci un salto Provatela Vedete che Alcune cose Vi piaceranno Resterete piacevolmente Sorpresi Da questa distribuzione Perché Clem Adesso Prende una LTS Quindi solidità Va Utilmente a ridefinirla A renderela Ancora più solida Con alcuni aggiustamenti Dei servizi Alcuni aggiustamenti Dei pacchetti E quant'altro Quindi La distribuzione A quel Quel sentore Di stabilità Che Il che Non guasta mai Anche per Per gli utenti Di smanettoni Che ogni tanto Non bisogna di Avere un ambiente Un ambiente stabile Bene Con questo ho concluso Lunga vita e prosperità A tutti quanti Ci vediamo al prossimo video Chissà quando Chissà non si sa Bye bye